La morte del geometra Carlo Maletta, vittima martedì di un incidente sul lavoro in un cantiere ferroviario a Maena, nel Novarese, ha scosso tutta la Valtellina. In tanti si chiedono se non sia possibile fare di più nel campo della sicurezza e della prevenzione e sul tema interviene anche l'Associazione Nazionale Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, l'ANMIL, presente anche a Sondro, con un nuovo direttivo. Il presidente Arturo Schiappadini avrà come vicepresidente Leandro Barri. Noi come associazione cerchiamo collaborazione istituzionale, collaborazione per i vari eventi che faremo e via dicendo e chiaramente sensibilizzare innanzitutto quello che può essere l'opinione pubblica perché questo è un caso grave e si vede tutti i giorni casi di morti o di infortuni abbastanza gravi. Ma ANMIL non vuole solo occuparsi del dopo incidente sul lavoro ma fare anche un programma dedicato alle scuole per far conoscere ai ragazzi il tema della sicurezza e della prevenzione. Stiamo costruendo un programma per poter arrivare nelle scuole e via dicendo, specialmente nelle professionali e non, per poter portare un messaggio e sensibilizzare per una prevenzione e via dicendo, porteremo un testimone allo due e via dicendo.